Nell'opinione pubblica, nella gente comune, questa situazione forse imprevista dopo la Brexit, dopo la pandemia, come viene vissuta nel quotidiano intendo? Sì, io quello che ti posso dire te la faccio magari un'analisi spezzettata in due, nel senso una da italiano che vive qui e una da inglese. Da italiano indubbiamente è caduto questo stereotipo che noi abbiamo del Regno Unito, di paese forte, stabile, economicamente, con una forza. Però noi abbiamo parlato di crisi energetica, ti ho fatto l'esempio degli scioperi, delle manifestazioni di protesta di sabato, ma in realtà sabato c'è stato uno sciopero dei trasporti su rotaia che verrà ripetuto questo mercoledì e sabato prossimo. E sempre sabato c'è stato uno sciopero da parte della Royal Mail, che è una delle istituzioni storiche, sarebbero le poste. Le poste, le mitologiche poste inglesi, quelle che recapitano anche in capo al mondo e puntualmente una lettera, giusto? Perfetto, e quindi sapere che anche un'istituzione del genere ha scioperato perché ci sono difficoltà nel rinnovo dei contratti, nella situazione lavorativa delle persone che lavorano per la Royal Mail, per i trasporti su rotaia e in contemporanea tutto nella stessa giornata la protesta da parte delle persone. Ecco, come dicevo, da italiano che vive qui mi è caduto, diciamo, l'immagine stereotipale che abbiamo del Regno Unito. Se invece la ragiono da inglese, parlando con gli inglesi, diciamo che loro stanno vivendo una sorta di boccone amaro che noi magari in Italia e in altri paesi dell'Europa siamo abituati a mandare giù ormai da anni a vivere questa crisi. Quindi li vedo un po' impreparati, quasi come vedere da lontano uno tsunami che sta arrivando ma che non sanno come affrontarlo. Vediamo se questo tsunami verrà gestito bene da Down Street oppure, speriamo di no, coinvolgerà le persone di qualsiasi ceto sociale. Grazie Alessandro, grazie come sempre Alessandro Allocca, veramente. A te Luigi, grazie per l'ospitalità.